Grazie, buongiorno, mi hanno detto che forse sono il più giovane nella storia della più antica università del mondo occidentale, non ho verificato ma posso fare più che una premessa, quello che stiamo facendo, quando sono stato invitato, ringrazio gli organizzatori, la prima riflessione che ho fatto è che cosa significava per me università positiva, nel programma è scritto positive universities are responsible universities that are concerned by the well-being of their students and future generations. Quindi il concetto di università positivo e di positivo lo leggo immediatamente al concetto di responsabilità sociale, di responsabilità nei confronti delle future generazioni, dei temi che sono stati tutti richiamati, del pensiero di lungo termine, della capacità di affrontare, di ragionare, di interrogarsi sulle sfide globali. Allora, il punto, la domanda immediatamente successiva che mi sono fatto è se siamo di fronte alla necessità, per quanto riguarda l'università, di un cambio di paradigma. E la risposta che mi sono dato è no, io non penso che sia necessario un cambio di paradigma. In termini provocatori questo significherebbe l'esistenza della negative university e io non l'ho ravviso. Quello che secondo me invece è necessario è probabilmente recuperare il paradigma originale. L'università, almeno il modello occidentale, è nata adesso convenzionalmente circa un po' meno di mille anni fa, almeno il modello di università di insegnamento libero, indipendente dalle scuole religiose, è nato qui, è nato a Bologna e si è sviluppato, è nato dalla società, è nato dagli studenti. Gli studenti si sono, prevalentemente internazionali peraltro, si sono organizzati in università e raccoglievano fondi per pagare la docenza i professori, che poi non era un salario, non era uno stipendio perché all'epoca la scienza era considerata un dono di Dio e quindi diciamo questo era una sorta di regalo ai docenti e non uno stipendio. Allora gli studenti erano rettori, all'inizio della nostra storia i rettori erano gli studenti. Allora io ripartirei da questo, che per me l'università è una comunità di studenti, una comunità internazionale di studenti. Un altro passaggio, faccio un salto molto più avanti, nel 1988 è stato firmato da più di 300 università europee la Magna Carta Universitatum, un documento che eravamo quattro anni prima di Maastricht, un documento che poi si è arricchito di altre università che hanno aderito a questo testo fondamentale dei valori dell'università, oggi sono più di 800 le università che hanno firmato questo documento proveniente da 85 nazioni nel mondo e in questo documento, che l'ho qui sotto, vi volevo fare semplicemente due o tre passaggi. Si legge all'inizio che il documento è firmato nella prospettiva di una collaborazione allargata tra tutti i popoli europei, convinti che i popoli e stati debbano assumere ora più che mai coscienza del ruolo che le università saranno chiamate a svolgere in una società che si trasforma e si apre a dimensioni internazionali. Altri due passaggi iniziali. L'avvenire dell'umanità al concludersi di questo millennio dipende in larga misura dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico che si svolge in quei centri di cultura, di sapere e di ricerca che sono divenuti vere università. Il secondo punto cita il compito di diffondere le conoscenze che l'università deve assumere nei confronti delle nuove generazioni. Implica che essa si rivolga anche all'intera società, il cui avvenire culturale, sociale ed economico esige oggi uno specifico considerabile impegno di formazione permanente. E l'ultimo punto di premessa è che l'università deve assicurare alle generazioni future un'educazione, una formazione che consenta di contribuire al rispetto dei grandi equilibri dell'ambiente naturale e della vita. Poi procede, si parla di istituzione autonoma, si parla di istituzione aperta, si parla di dialogo permanente, si parla di università come istituzione depositaria della tradizione dell'umanesimo europeo, questo era rivolto inizialmente alle università europee, ma con l'impegno costante di raggiungere il sapevole universale. L'università, nell'esplicare le sue funzioni, ignora ogni frontiera geografica o politica e afferma la necessità inderogabile della conoscenza reciproca e dell'interazione delle culture. Allora, questa è la risposta che io mi son dato, io ritrovo nel paradigma originario sia della sua fondazione che quello rilanciato con la magna carta, quello che secondo me è l'università positiva e sottolineerei di quello che avevo detto tre punti. Il primo è l'autonomia e l'indipendenza, il secondo è un'università aperta, io intendo aperta in tutti i sensi, aperta significa per me fortemente radicata nel territorio che però è proiettata, si confronta a livello internazionale, aperta significa capace di generare ricadute positive, impatto positivo, un impatto durevole sulla società, sull'ecosistema, capace di generare intorno a sé un ecosistema, capace di rispondere ai bisogni delle società, di, come diceva prima il collega, di vederli in anticipo, capace di interpretare i cambiamenti e di guidarli, capaci di interrogarsi sulle sfide globali, ma anche luogo di dialogo tra culture diverse. Oggi più che mai, dopo i fatti di Parigi e di Bruxelles, l'università a mio avviso ha una responsabilità in più. Un luogo di accoglienza, io non farò molti esempi, uno in tema di rifugiati che sono stati citati prima in apertura, il sistema delle università italiane coordinato dalla conferenza dei rettori, insieme al governo si sono resi disponibili a lavorare sul tema dell'immigrazione e quindi mettere a disposizione le competenze all'interno delle università in questa fase per il riconoscimento delle vittime, dei naufragi. Tutte le università italiane, o quasi tutte le università italiane, negli ultimi mesi si sono aperti per accogliere i rifugiati, per dare la possibilità ai rifugiati che hanno questo desiderio, nell'attesa che si completino le procedure di regolarizzazione, di poter accedere ai corsi universitari. Ecco, quindi un'università inclusiva e l'ultimo punto che è quello che ha dato origine all'università e quello che a mio avviso è il più importante è che l'università per me è centrata sugli studenti. Cioè l'università è il luogo degli studenti, è il luogo dove gli studenti sono protagonisti, è il luogo dove qualsiasi azione deve essere pensata e implementata nell'interesse degli studenti. Ce ne sono anche qui di studenti, mi permettete se saluto gli studenti del corso di laurea in management e dell'economia sociale della mia università. Ovviamente, come è stato detto all'inizio, gioco in casa perché poi l'università di Bologna ha vari campus, uno è qua a Rimini. Dicevo perché gli studenti, quando parliamo di innovazione, di ricadute, di impatto sulla società, in prima battuta tutto ciò passa, cammina sulle gambe dei nostri studenti. È chiaro che la formazione è una delle missioni dell'università, c'è la ricerca, c'è la terza missione, probabilmente alcuni temi verranno approfonditi dal presidente della conferenza dei rettori, diciamo a conclusione della giornata di oggi. Fatemi spendere ancora due parole sul tema della formazione. Che cosa può fare di più l'università? In che direzione possiamo impegnarci? Io ci sono due aspetti, uno che riguarda i contenuti e l'altro che riguarda il metodo. Qualcosa è stato accennato prima dal collega. In termini di contenuti io credo che come università dobbiamo sforzarci di innovare i nostri percorsi formativi secondo una modellazione delle competenze AT, dove insieme a delle competenze specifiche e professionalizzanti dei nostri corsi di studio che formano la gamba centrale dell'AT, si dia spazio nei nostri corsi di studio a quelle competenze invece di tipo trasversale che formano le due ali dell'AT. Competenze in senso ampio però, non penso soltanto alle cosiddette soft skills, ma penso ad arricchire percorsi di studio con tirocini, esperienze all'estero, coinvolgimento degli studenti in progetti di ricerca multidisciplinari, coinvolgimento degli studenti in progetti di di cooperazione allo sviluppo, progetti internazionali, coinvolgimento degli studenti in progetti di ricerca insieme ad altre istituzioni ed imprese dove possano coinvolgere gli studenti sui temi della nuova imprenditorialità, coinvolgere gli studenti su progetti di responsabilità sociale che le università portano avanti, come quello che è stato richiamato prima sul tema ampio della sostenibilità. L'altro aspetto riguarda, perché questo primo punto, perché dal mio punto di vista noi non dobbiamo formare soltanto degli ottimi professionisti, ma dobbiamo formare degli ottimi cittadini. Il secondo aspetto riguarda il metodo, e qui mi affiderei una frase di Plutarco che diceva che gli studenti non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere. Credo profondamente in questo, e io penso che anche da questo punto di vista qualche sforzo in più da parte delle università, parlo del sistema universitario italiano, nel affiancare ad una modalità di insegnamento legata alla trasmissione del sapere, quindi di tipo ex cattedra, cioè di attività frontale, affiancare invece diciamo modalità didattiche che siano più coinvolgenti per gli studenti, che stimolino la rielaborazione critica da parte degli studenti, più attività pratica, attività pratica quindi diciamo imparare facendo. Io credo che se contaminiamo i nostri percorsi formativi che comunque sono molto robusti, in questo modo penso che rispetto ai nostri studenti gli diamo degli strumenti in più per poter interpretare le trasformazioni del mondo e per poter poi avere successo in futuro. Grazie. 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 Grazie.